Ciao ragazzi, benvenuti su Castiubedrums, oggi sono in compagnia di strumentimusicali.net per farvi vedere una cosa che ovviamente c'è all'interno di questo pacchettino ovviamente avete già visto dal titolo di cosa vi voglio parlare oggi quindi andiamo di... Ammazza malissimo Luca stavolta eh a vedere di cosa si tratta perché sapete ovviamente che è un pedale per gran cassa ma non sapete quale pedale per gran cassa, forse l'ho messo nel titolo, adesso non mi ricordo comunque vediamo un attimo perché questo è un pedale che non ho mai provato questo marchio non lo porto molto sul canale quindi sono contento di poterlo portare sul canale partiamo con questi che molti di voi sapranno che cosa sono magari se ve li faccio vedere dalla parte giusta non sarebbe male dopo comunque vi spiego tutto bene poi andiamo avanti con questo affarino piccolo qua che vi spiego anche dopo bene che cos'è questo è una delle cose più sottovalutate ma importanti e poi andiamo a prendere lui ho deciso di provare un pedale Pearl il Pearl 205 OC-O slash F allora questo qua è un pedale fighissimo è fighissimo... non mi serve questo... è fighissimo da vedere ed è fighissimo molto probabilmente anche da utilizzare le trovate ovviamente sempre tutto come al solito in descrizione vi mostro come funziona questo pedale come sapete a me piacciono i pedali singoli quindi questo è un pedale singolo di casa Pearl questo... uuuuh... veramente? che bomba! che bomba! doppia catena Pearl... vi tiro giù anche qua... guardate che bello... bellissimo questo pedale veramente una figata dentro a parte istruzioni varie ci sono il battente che è un battente di quelli speciali perché possono essere utilizzati in vari modi anche da questa parte qua secondo me io lo utilizzerai anche da queste parte qua quindi feltro, plastica, feltro dall'altra parte ci sono un po' di possibilità e poi vi danno le cover ragazzi le cover per il vostro pedale e cioè il passaggio della catena può essere rosso, può essere bianco o può essere blu ragazzi sono preso bene? voglio spiegarvi bene questo pedale più che altro voglio farvi vedere le regolazioni che ha questo pedale che poi in realtà tante regolazioni le hanno un po' tutti i pedali quindi voglio che questo video sia un po' esplicativo anche se avete un altro tipo di pedale se volete acquistare un pedale che non sia per forza questo ma vi voglio farvi vedere un po' le viti cosa servono eccetera 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 sigla e poi andiamo pensavate molto probabilmente che rimanesse la batteria che vi spiegasse le cose lì invece ho deciso di sedermi qui alla scrivania con il mio pedalozzo davanti che lo potete vedere anche da questa camera qua in modo tale da potervi spiegare bene come funziona un pedale questo vuole essere proprio il fulcro di questo video cioè spiegarvi che cosa può avere un pedale, quali sono tutte le sue funzioni per poterlo settare al meglio perché poi è veramente importante, la tecnica è importante eccetera ma è importante anche saper settare un pedale al meglio quindi partiamo guardando questo pedale qua questo pedale qua che cos'ha? allora questo pedale ha una pedana sicuramente di media lunghezza né troppo lunga né troppo corta che secondo me sono tra le migliori perché ci permettono di riuscire ad andare veloci ma avere un buon controllo possiamo vedere che questo è un pedale a doppia catena quindi con due catene ovviamente unite insieme questo non è l'unica possibilità di pedale che abbiamo perché abbiamo anche ad esempio pedali a catena singola abbiamo pedali a trazione diretta non sto qua a farvi tutta una lezione su queste tipologie di pedali perché ho già fatto un video su tre pedali singola, catena doppia e trazione diretta ve lo lascio qui sotto in descrizione ma non voglio fermarmi qua perché voglio andare proprio a farvi vedere ogni singola vite a che cosa serve quindi partiamo da questa parte del pedale in cui possiamo trovare la molla la molla è una delle cose di nuovo super importanti del pedale perché decide quanto far essere duro il pedale quindi quanto farci sforzare con un pedale e in generale la cosa che ci verrebbe da pensare è ok, allora tengo la molla morbida la molla morbida così almeno riesco a suonare facilmente ma questo non è sempre vero perché ci può far andare un po' più veloci ma la molla troppo morbida non ci permette di avere il controllo quindi per mollare la molla la cosa che dobbiamo fare è ruotare questa parte in senso orario e vedremo che pian pianino la nostra molla diventa più piccola nel senso che non è più completamente tirata ma pian pianino diventa più piccola quindi si chiude questo significa che il nostro pedale sarà molto 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 più morbido anche proprio si potrà sentire toccandolo con la mano provando a schiacciare con la mano ecco fino a che questa ghiera va proprio a staccarsi completamente che vuol dire che siamo arrivati a fine corsa quindi questo è il massimo della mia mollezza di molla quindi in questo caso qua noi faremo molta poca fatica ma avremo meno controllo cioè il pedale risponderà meno a quello la pedana del pedale risponderà meno a quello che vogliamo fare noi mentre se noi andiamo a tirare la molla quindi andiamo a girare in senso orario questa parte del pedale che abbiamo già girato prima la molla adesso velocizzo un po' e poi vi faccio vedere ecco qua come potete vedere la molla del pedale adesso si è completamente dilatata ed è più lunga ovviamente e fa più fatica nel senso fa più pressione il pedale ovviamente da schiacciare sarà più duro e questo ci darà più controllo nel senso che il pedale andrà a muoversi proprio insieme al nostro piede qualsiasi movimento noi facciamo col piede ma ovviamente sarà un pochettino più duro quindi sarà un pochettino più faticoso suonare lì ovviamente sta a voi cercare mettersi a mollare la molla un po' di più o un po' di meno per trovare il proprio equilibrio e cioè proprio il modo giusto di settare il proprio pedale se invece vado a girare il pedale in questo modo posso vedere che qua c'è un'altra ghiera un altro tondino che posso andare a svitare questo non c'è in tutti i pedali contate che questo pedale è un pedale che ha un bel po' di regolazioni l'ho preso apposta perché ci sono un po' di regolazioni possibili e vi posso far vedere tutto non tutti i pedali ce l'hanno ma secondo me questo è molto utile cioè con questo posso andare a decidere anche l'angolazione un pochettino della mia molla vedete che cambia di poco ma così è più verso l'esterno così è un pochettino più verso l'interno è importante che la molla sia sempre perfettamente verticale al pavimento al terreno come vedete non ho ancora attaccato nessun battente perché non ci siamo ancora arrivati ma ci arriviamo adesso perché prendiamo il nostro battente come vi ho fatto vedere prima è questo qua con più possibilità due feltri e anche la plastica che volendo posso utilizzare comunque come battente per avere un suono più secco anche il legno per avere un suono ancora più potente ancora più secco poi ci sono altre tipologie di battenti per avere suoni diversi di cassa magari qui sotto in descrizione ve ne lascio alcune tipologie andiamo a inserire il nostro battente di questo poi vi parlerò dopo e vi farò capire che cos'è e chiudiamo il nostro pedale ovviamente con la chiavetta come vedete qui c'è una vite che serve per chiudere e tenere fermo diciamo il nostro battente quindi noi la chiudiamo questo l'ho lasciato qui non so perché non mi serve ciao dopo aver messo il battente noi abbiamo un po' di cose da fare cioè se guardate qui in questa vite alla destra del mio pedale ho questa vite che se la giro il pedale muore in pratica perché questa vite qua serve per decidere la distanza del battente dalla pelle quindi in questo caso voi deciderete l'angolazione proprio del vostro pedale che volete dalla pelle e poi nel momento in cui decidete l'angolazione ad esempio questa qui adesso non lo vedete bene ma in questo caso questa qua che più o meno io vi consiglio di tenere un 45 gradi rispetto alla pelle quindi in questo modo qua circa e poi andate a chiudere la vostra vite e vedrete che il battente rimarrà in questa posizione se voi volete andare a modificare ad esempio volete andare a mettere il battente in questa posizione che è una posizione assurda lo so ma lo volete lì voi girate la vostra vite in quella posizione lì e avrete il battente come volete un'altra vite che può esserci molto utile è questa qua la vite che c'è per togliere la catena ovviamente noi abbiamo la possibilità di cambiare la catena di inserire una catena singola se ci piace ad esempio più la catena singola non lo so e più che altro come potete vedere in questo spazietto qua spero si veda ma io ve lo faccio vedere in questo modo qua in questo spazietto qua noi abbiamo anche la possibilità di decidere quanto tirare la catena se tirarla di più o tirarla di meno e poi ovviamente andiamo sempre a tirare tutto con la nostra vite in modo tale da tenere i settaggi che vogliamo come li vogliamo come li abbiamo settati e nel modo giusto soprattutto e nel modo giusto altra cosa super importante che è sempre un po' sottovalutata ma è veramente importante mettiamo un po' di roba a posto qui sulla scrivania riguarda questi cioè i falam i falam in pratica che cosa sono? i falam sono un po' delle protezioni diciamo per andare a proteggere la nostra cassa cioè noi quando diamo dei colpi con questo battente qua comunque facciamo una bella pressione sulla nostra cassa quindi noi andiamo a mettergli questi che sono degli adesivi che si piazzano proprio dove andiamo a colpire con la nostra cassa li piazzate nel punto giusto in cui andrete a colpire ce ne sono due in questo modo potete usarli anche col doppio pedale in realtà secondo me con uno così grande non sono sempre così grandi ma con uno così grande secondo me riuscite a farci stare tutti e due i pedali ma andate a proteggere un po' la vostra cassa la vostra pelle e quindi in pratica la vostra pelle durerà di più e potrete suonare di più con la stessa pelle oltre questo c'è anche un'altra cosa che vi voglio far vedere e cioè questo affarino minuscolo qua questo affarino minuscolo qua che è praticamente un peso volendo per il vostro battente oppure una memoria anche per il vostro battente perché perché voi andate a staccare il battente dal vostro pedale quindi questo può funzionare da peso se per caso il vostro battente vedete che pesa troppo poco questo qua è un pesetto piccolino che però tante volte può aiutare oppure come memoria cioè che vi serve proprio nel momento in cui andate ad inserire il battente magari lo togliete poi lo dovete reinserire se avete questo vi ricordate che il battente va inserito fino a questo punto vi spiego un piccolo trucchetto con il battente e soprattutto con le memorie che a me ha salvato la vita tantissime volte e cioè anziché usare una memoria sola e usarla solo come memoria andiamo a utilizzarne due quindi la prima cosa da fare è andare a inserire la nostra memoria svitarla prima inserire la nostra memoria nel pedale e andare a metterla in modo normale qua proprio come se noi dovessimo andare a utilizzarla per far stare il nostro battente in una certa posizione poi possiamo anche andare ad avvitare il pedale con questa vite che vi ho fatto vedere prima in modo tale da non far muovere più il pedale in nessun modo ma poi la seconda memoria andiamo ad inserirla sotto in pratica nella parte sotto del nostro battente nella parte che avanza e andiamo a chiudere in questo modo noi abbiamo una memoria avvitata sotto e una memoria avvitata sopra se per caso per qualsiasi malaugurato motivo questa vite qua che tiene il nostro battente va a mollarsi mentre suoniamo il nostro molliamola così vi faccio vedere molliamola tranquillamente e quindi il battente dovrebbe uscire il battente non uscirà perché avrà una cosa che lo tiene sopra e una cosa che lo tiene sotto quindi sarà imprigionato lì poi ovviamente dovrete andare di nuovo ad avvitare la vostra vite per tenere bene il battente però almeno riuscirete a finire la canzone magari a me è successo una volta live ho visto che il pedale muoveva un pochettino il battente del pedale muoveva un pochettino ho detto cosa è successo e poi per fortuna avevo la memoria sia sopra sia sotto perché neanche me ne sono accorto che si fosse svitata la vita se non avessi avuto queste due memorie sarebbe stato un grosso un grosso un grosso problema quindi con questo ragazzi il video può finire qua io come sempre voglio ringraziare tantissimo strumentimusicali.net che mi dà la possibilità di fare tutti i video che voglio se voglio provare una batteria se voglio provare le pelli se voglio provare i pedali se voglio spiegarvi come funziona un pedale lo posso fare quindi grazie mille strumentimusicali.net che mi lasci fare un po' quello che voglio qui sul canale io sono la persona più felice del mondo detto questo in descrizione trovate tutti i link che vi servono sia per quanto riguarda il pedale sia per quanto riguarda i pedali sia il video in cui vi spiego le tre tipologie di pedali catena singola catena doppia cose eccetera eccetera vabbè vi lascio tutto qui in descrizione così poi lo potete vedere in descrizione trovate anche l'articolo in cui ci sono un pochettino di informazioni in più riguardanti sempre il pedale pearl che vi ho fatto vedere oggi altre cose che vabbè andate a vedere sull'articolo e basta direi che vi ho detto tutto quindi non vi rompo più le scatole vi lascio andare a mangiare o a dormire che ne so dipende a che ora state guardando questo video vabbè raga sto un po' divagando iscrivetevi al canale mi raccomando andate in descrizione guardate cose commentate e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao